La sindrome dell'impostore, edito da Feltrinelli, è un libro, non so se fondamentale o necessario, ma sicuramente utile per comprendere come l'uomo contemporaneo e l'uomo di questa società liquida, come direbbe Bauman, è soggetto a una serie di attacchi di carattere esistenziale, per cui ci sono delle condizioni che non sono direttamente dei disturbi psicologici da curare in maniera anche psichiatrica, ma che comunque influenzano la propria esistenza, come ad esempio quel senso di inadeguatezza che è la base della sindrome dell'impostore. Il libro è ricco di schemi che esplicano quali sono le condizioni più nello specifico di questa sindrome, come colui che è affetto da sindrome dell'impostore agisce e interagisce all'interno della società e delle sue relazioni, che sembra colpire questa sindrome più le donne di successo che gli uomini di successo. Anche se fondamentalmente questo senso di inadeguatezza che può sviluppare la sindrome dell'impostore può generare anche nell'ambito del non sentirsi adeguati e svolgere il ruolo di paterfamilias, di padre di famiglia o di amico o di conoscente o di buon vicino o di buon marito eccetera eccetera.